Gentili telespettatori, buona giornata, rassegna stampa di oggi sabato 2 aprile del 2022. Mariupol tutti in trappola, parla il sindaco della città martire ancora senza corridoi umanitari, raid in territorio russo, Putin accusa, Kiev nega. Che cosa è successo? Attacco a una raffineria, un deposito di petrolio in territorio russo. Non era mai successo dalla fine della seconda guerra mondiale che ci fosse un attacco sul territorio russo, ma Kiev nega di aver fatto questo attacco e Putin nega di averlo fatto lui. Saranno stati gli alieni o comunque Putin si è attaccato da solo per trovare comunque la scusa per fare altro o è stato Kiev, ma Kiev nega. Perché Kiev dovrebbe negare? Insomma, c'è mistero. Intanto Cingolani l'intervista così dice faremo a meno del gas di Mosca. C'è un piano dello Stato per fare a meno perché il gas potrebbe finire per ottobre utilizzando anche le riserve. Da ottobre in poi saremmo senza il 45% del gas che il governo ha già più o meno trovato come sostituirlo. E qui vedete le foto di questi poco più dei bambini. Guardate il terzo a destra, sembra un quindicenne, guardate questo ragazzo, guardate questi ragazzi sotto, hanno 18 anni. Sono alcuni dei soldati morti russi. Hanno 18 anni, tutti questi che vedete, sono stati presi dalle zone remote della Russia, delle zone più sperdute, inviati al fronte senza dirglielo, gli hanno detto che andavano a fare delle esercitazioni e sono stati mandati a morire da Putin per questa sua personale guerra. E poi andiamo a vedere Conte, i pugni sul tavolo, i nuovi timori nel PD. Nel PD dicono ma questo che cosa vuole? Questo ce ne combina una. C'è poi un video sul canale proprio su questo. E poi andiamo a vedere la Repubblica che titola La guerra arriva in Russia, come vi dicevo prima. In fiamme il deposito di petrolio di Belgorod. Il Cremlino dice colpiti da raid aereo ucraniano. Ma Kiev nega. Il Presidente del Parlamento dell'Unione Europea abbraccia Zelensky nella capitale assediata. Sospetto tumore per Putin. Gas, no di Bruxelles al ricatto di Mosca. Non pagheremo in rubli. Andiamo a vedere la stampa che titola Attacco in Russia, come vi raccontavo prima. Ma non è stato nessuno, saranno stati gli alieni. E poi vediamo libero quotidiano, la democrazia e i suoi effetti collaterali, il caso Petrocelli e poi la sinistra si dichiara guerra a quegli strani figli di Putin. Ovviamente qui c'è un'allusione. Esplodono le contraddizioni rosse, Santoro difende gli invasori e litiga colletta. E al fronte coi russi spuntano i compagni dei centri sociali. Mosca non chiude i rubinetti, bene Europa è panico da gas. Il governo per ora ha nessuno stato di emergenza. E la variabile del cancro sul conflitto, il male dello zar. Il Cremlino arruola bimbi e terroristi. Trittacarne al fronte, quello che abbiamo visto nel giornale di prima. Conte si prepara a rendere impossibile la vita a Draghi. Sono tutti in campagna elettorale, il PD ha il sospetto che Conte voglia far cadere il governo per andare alle elezioni anticipate e tutti lo sosterremo, Conte, in questa sua iniziativa geniale, possiamo dire. E poi virologi in libreria tutti negativi, il flop delle pubblicazioni sul Covid. Certo, ma chi è che si va a comprare il libro della Virostar? Però il Fatto Quotidiano titola oggi da Putin picco di gas nel mese della guerra. Perché in questo momento la Russia sta stravendendo gas, cioè sta vendendo più gas. Perché? Perché gli stati stanno facendo scorta, visto che si dice che vogliono staccare il gas. Pertanto extra guadagno per Putin che può spenderlo in armi. Questa è la contraddizione di questa guerra. L'Europa invia armi e invia anche un sacco di soldi in più a Putin così può comprarsi anche lui le armi. Fantastico, nel suo paradosso squallido. Draghi sulla difesa ha fatto retromarcia. Parla la vicepresidente del Movimento 5 Stelle. In realtà non è successo questo. Draghi non ha fatto dietrofront sulla difesa. E poi andiamo a vedere. Vogliono 65 miliardi in armi. Guerini moltiplica i generali. Dietro le spese militari, su 25 miliardi anni, il 60% va in stipendi e il 28% in investimenti. A bilancio richieste quasi triple, soprattutto in sistemi combat e nuovi mezzi. E beh, tagli, tagli, tagli e a un certo punto si arriva a un bell'anno dove ovviamente i mezzi diventano obsoleti e poi cambiarli tutti in una volta risulta impossibile. Andiamo a vedere poi la verità. comincia a emergere la verità sul covid. Il CTS sciolto, confessa, prese misure inutili. Greco, abbiamo dovuto suggerire restrizioni di dubbio efficacia scientifica ma costi sociali certi. Le chiusure non hanno frenato il virus. Un altro errore è stato lasciare la comunicazione in mano a virologi autonominati. Le virostar da televisione assoldate dai conduttori televisivi per fare audience a suon di litigate tra medici e Novax, che abbiamo assistito a questo per due anni. Il documento segreto di Fincantieri, così da l'EMA ci apre le porte, della Colombia. E poi andiamo a vedere ma Speranza si loda e progetta di tenere tutti in libertà. Vigilata tra mascherine e quarta dose non demorde Speranza. Dice non poffini così, non poffini così. Guerra e bonus, conti pubblici già salati, crescita zoppata. Def da rifare. Il ministro Franco ammette bisogna rivedere le stime sul PIL. Nell'Eurozona l'inflazione schizza al 7,5%, mai così alta da quando esiste la moneta unica, cioè l'Euro. E poi andiamo a vedere. Papà ricostruì al Cavaliere il sorriso che rubò a me. Vediamo qua Francesco Mazza. Ma credo che non ci interessa una Mazza di questa notizia. E poi Draghi allestisce la task force bellica da mezzo milione. Ci mancava, scrive Daniele Capezzone. E andiamo a vedere il tempo che titola oggi la roulette russa del gas. Il cremino prende tempo, il pagamento in rubli del metano non parte. Ma voi ricordatevi che il metano ti dà una mano. Blef di Putin sulle trattative. Il cessato il fuoco sembra vicino ma bombarda un ospedale. Da registrare che la Russia ha anche bombardato la Croce Rossa. Sapete quando si dice come sparare sulla Croce Rossa? L'ultimo nella storia del pianeta che ha attaccato la Croce Rossa è stato Adolf Hitler. Si apre anche il fronte del grano. Mosca minaccia di ridurre l'export a chi è ostile. E poi il tempo di Osho. Grazie a Raggi. A Raggi perdiamo pure le Olimpiadi amatoriali. Cosa dice Gualtieri? Pure le Olimpiadi amatoriali ci ha fatto Sartà. Ma dopo cinque anni con me ancora che ci avete voglia di dilettantismo? Vabbè, neanche oggi riesce a farmi ridere il tempo di Osho. Vabbè, ci sarà tempo anche per ridere magari qualche altro giorno. Nei grandi ristoranti non vince solo lo chef ma tutta la squadra. Notizia veramente, ma veramente interessante. E questo invece del mercato dell'auto a picco vendite a livelli del 1967. A marzo immatricolazioni giù del 30%. Beh, con tutte queste bollette, la perdita di potere d'acquisto, non penso proprio che gli italiani stiano pensando di cambiare la amacana. Devo cambiare la amacana. E andiamo a vedere il messaggero. Il messaggero ci racconta attacco in Russia. L'autonomia energetica per le future generazioni. Oltre il conflitto, sull'attacco in Russia l'abbiamo già parlato a inizio della rassegna stampa. Novax in arrivo 2 milioni di multe. In partenza dall'agenzia delle entrate, notifiche da 100 euro per chi è over 50 senza dosi. E poi proposta di Lego a Forza Italia del PD no. Referendum in due giorni e la maggioranza si spacca. Nuova direttiva alle volanti, evitare gli inseguimenti. Tanto con le telecamere li becchiamo lo stesso. Bene. E poi andiamo a vedere cosa dice il sole 24 ore. Ci racconta BDP Italia. Il rendimento vola all'8%. Quasi quasi un pensierino. Ce lo faccio. L'inflazione in Europa torna agli anni 90. Marzo tasso al 7,5%. E poi andiamo a vedere nient'altro. Finiamo qua con la rassegna stampa e ci vediamo tra una ventina di minuti. Arrivederci a tutti e grazie.